Rieccoci, una buona serata a tutti quanti voi, sono il ritardissimo, vi chiedo scusa, nuova classifica integrale del 90. Allora, avete visto, sabato 3 settembre si era presentata questa situazione, ve l'ho fatta vedere in uno schema solo, il 9 di Bari che arrivava con l'ambata contata, quindi Cagliari e Torino, il 90 stesso di Cagliari puntava su Torino, perché se voi fate la conta arrivava proprio su Torino. In un colpo solo, ieri sera, arriva il 90 a Torino, guardate, da Cagliari si sposta direttamente a Torino, guardate qua, allora, poi sempre nelle estrazioni del 3 settembre, il 9, vedete questo 9, potrebbe fare di nuovo lo stesso scherzetto del Bari, cioè quello di andare a Cagliari e Torino, ma questa volta Torino-Venezia, quindi può girarsi come 90 a Venezia. 90 attesissimo anche a Venezia, perché il Bari è già sganciato, la livellatura è perfetta, quindi le vecchie ambate contate, insomma ragazzi, le 4 migliori ruote di sempre ci saranno ancora una volta e speriamo che va di bene ancora questa volta. Poi vi spiego un trucchettino come giocare le 4 ruote con il 90, perché tanti giocano magari tutte le posizioni e magari saltano proprio l'estratto semplice, che è quello che vi permette di recuperare quindi l'ambata. Quindi in questo caso è il 90, lo andiamo a vedere fra poco, gli scontrini sono arrivati, ne stanno arrivando ancora, ma io sono arrivato in ritardo questa sera, quindi ve ne farò vedere alcuni, guardate qua, solo alcuni, perché questi sono i 90 che sono arrivati ieri sera, ma ancora adesso continuano ad arrivare, quindi felicissimo che l'avete giocato. Ecco quello che vi dicevo, guardate il 38, 88, 90, questa è una giocata che vi siete fatti voi, non che io ho dato questi numeri, vedete c'è il 38, 90 e quindi vi siete impostati voi come sempre, quindi avete messo il vostro zampino, quindi avete giocato poi l'ambo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma vediamo noi velocemente perché sono in ritardissimo, ragazzi. Allora, questa è la nuova classifica integrale del 90, ho messo Napoli, come vedete, guardate qua, la vecchia classifica era questa, c'era il Torino, subito in automatico, guardate, quindi Napoli, perché vi faccio vedere ancora una volta lo schemino, quindi questo era lo schema, poi siamo andati avanti, eccolo qua. 6 settembre, ieri sera, questo Torino punta Napoli, Napoli, Milano. Il Napoli presenta una condizione ottimale, guardate bene com'è, in diretta subito subito l'8++, ormai l'ho conoscita a memoria, programma di Roberto Borrelli, non dimenticatelo, ruota di Milano, andiamo ad analizzare prima la ruota di Milano nelle 600 estrazioni, guardate Milano, lui è a 4, siamo a 30 estrazioni nel corso di 600 estrazioni, quindi tenete ovviamente il 30 e siamo a 4, ma guardate il Napoli, come il Torino, come quello di Cagliari è arrivato a Torino, adesso quello di Torino punta su Napoli, guardate qua, guardate il 90 di Napoli, ragazzi 18, 15, 15, 18, 18, 18, domani sera siamo a livellatura, quello era 30, quello del Milano, guardate siamo a 39, si livella, quindi molto più frequente come sapete è quello di Napoli che è quello di Milano e quindi probabilmente poi forse il Milano arriverà dopo, come è successo, vi ricordate la volta scorsa, quindi prima arriva Napoli e poi Milano, vedremo se anche questa volta andrà a finire così, comunque la livellatura è questa, guardate, e di nuovo ancora una volta l'ambata contata punta da Torino verso Napoli, prima e quarta posizione, adesso vi do una dritta, allora questo è lo schema finale dell'ultima condizione del 90, quindi lo schema finale è questo qua, vi faccio vedere subito, allora questo no, quello già passato, questo è passato, guardate tutte classifiche azzeccate, adesso l'ultima classifica è questa, Napoli-Roma-Venezia nazionale, come si può fare a giocare tutte le ruote con il 90? ma allora, sceglietevi la posizione più forte che in questo caso quella di Napoli dovrebbe essere la prima e quindi giocate un euro più qua e poi un euro come strato semplice, un euro qua e un euro come strato semplice su Roma, un euro qui sulla quarta posizione che dovrebbe essere la più forte, un euro come strato semplice nazionale, la terza posizione, un euro di qua e un euro come strato semplice, l'estratto semplice è quello che vi permette di recuperare la giocata in casa andasse male su queste posizioni, ma basta che giocate magari quella più forte, come nei tanti casi se andate a zeccare la posizione più forte, quindi caricherete un po' più l'estratto semplice e un po' meno l'estratto determinato, perché l'estratto determinato con un euro paga più di 50 volte la posta e quindi fate voi, ok? Quindi questo è quanto, il 12-21 Genova-Palermo ancora domani sera e poi se non dovesse uscire domani sera, sabato poi si conclude lì e la stessa cosa identica vale per Palermo sempre col 12 con i suoi, quindi 71-77-80-89, Quei quattro abbinamenti ancora su Palermo che continuano a slittare su tutte le ruote, guardate qua, poi concludo il video, allora siamo a qui, guardate, levo il 90 e guardate un pochettino di nuovo, ma ragazzi è una cosa incredibile, allora 71-12, di nuovo questo 12 si continua a girare, 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 guardate, 12-71 e poi di nuovo guardate, poi c'è stato anche un 21, vedete? Guardate un pochettino come si combinano i numeri col 21, che sarebbe anche poi il 21 di Genova-Palermo, quindi 12-21 Genova-Palermo, guardate come si combinano i numeri, guardate, allora, quindi 13-11 mi sembra, sì, una cosa del genere, vabbè, comunque guardate il procedimento in pochi colpi di gioco, perché ormai siamo a 8 colpi domani sera, guardate la previsione era dedicata a Palermo con il 12 con i suoi, quindi 71-77-80-89 per Palermo, mentre invece il 12-21 ambo e ambetto Genova-Palermo, ma guardate cosa succede, vedete? Vedete il doppio ambetto, guardate, ma la ruota di Palermo non viene nemmeno sfiorata, cioè toccata, guardate, 21-71, ma sempre con gli stessi, vedete? 12-71, di nuovo, ma ancora quel 12 se Palermo e 21, a Palermo, Genova-Palermo, ancora, potrebbe regalarci qualche sorpresa domani sera, oppure sabato. Poi si conclude lì e comunque la classifica del 90 rimarrà sempre su YouTube, si cambierà semmai tutt'al più una previsione, vedremo se sarà centrata anche quella. Questa è la classifica del 90, non aggiungo nient'altro, ragazzi, vi lascio questa bellissima immagine, allora mi raccomando, come giocare? Quattro ruote si può fare un euro, qua è un euro un po' di più sull'estratto semplice, quindi caricare un po' di più l'estratto semplice e caricare meno la posizione, queste col più sono le più forti, più forti, probabili, ok? Probabili, nulla è certo nel gioco dell'otto, non dimenticatelo mai. Ragazzi, vi saluto, un abbracione a voi tutti, ce l'ho fatta, ho dovuto correre, perché ho anche il gruppo WhatsApp da tenere d'occhio, da vedere i messaggi che mi mandate, quindi ragazzi, sono da solo, ve lo ripeto, sono da solo, tutti contro uno, ragazzi, è dura, eh? Dai, ci risentiamo, un abbracione a voi tutti, Marcus, e aloha!